bella ragazzi oggi proveremo una nuova tecnica che ho studiato su internet che si chiama feeder andiamo sotto casa e proviamo cosa combino questa è la prima volta vediamo questa cosa qua ragazzi perché mi sa se riusciamo a farlo come ho detto la prima volta che lo faccio perciò sono buono anch'io chissà se dobbiamo prendere un pesce buono però lo richiudiamo qua dai una compattezza buona dai vediamo che combiniamo adesso aspettiamo ecco eh 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 Sì Grazie a tutti. 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 Mamma mia che bestia. Grazie a tutti.